Il cristianesimo non è un'ideologia, non è un sistema filosofico, ma un cammino di fede che parte da un avvenimento testimoniato dai primi discepoli di Gesù. Lo ha detto Papa Francesco durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il punto di partenza della riflessione del pontefice è stato la prima lettera di San Paolo ai Corinzi, in cui presenta Cristo risorto, nostra speranza. Proprio la storia dell'Apostolo delle Genti può farci riflettere sulla nostra vita, sull'origine della nostra fede. Egli infatti non era un chiarichetto, era un persecutore, ma l'incontro con Gesù risorto sulla via di Damasco stravolse tutta la sua esistenza. Essere cristiani, ha insistito Papa Bergoglio, significa non partire dalla morte, ma dall'amore di Dio per noi, che ha sconfitto la nostra acerrima nemica. Dio è più grande del nulla e basta solo una candela accesa per vincere la più oscura delle notti. Che bello pensare che il cristianesimo essenzialmente è questo. Non è tanto la nostra ricerca nei confronti di Dio, una ricerca in verità così tentenante, ma piuttosto la ricerca di Dio nei nostri confronti. Gesù ci ha pressi, ci ha ferrati, ci ha conquistati per non lasciarci più. Il cristianesimo è grazia, è sorpresa e per questo motivo presuppone un cuore capace di stupore, un cuore chiuso, un cuore razionalistico e incapace dello stupore. E non può capire cosa sia il cristianesimo. Perché il cristianesimo è grazia. E la grazia soltanto si percepisce, più si incontra nello stupore dell'incontro.